Allora innanzitutto io appunto come ha sottolineato il professor Taylor io sono un'assoluta neofita in questo campo ma è un campo che proprio da neofita mi ha rivelato una infinita potenzialità di cui io appunto non ero a conoscenza. Quello di cui mi sono occupata io in questo intervento è proprio diciamo così voler fare un punto mettere dei punti fermi e anche con la raccolta di molto materiale dal punto di vista di quello che è stato scritto e che è stato fatto in questo campo di dare uno spaccato e di riuscire insomma come dire a dare una visione su questa disciplina. Allora io innanzitutto ho intitolato questo mio intervento l'audiodescrizione per il museo un incontro transdisciplinare e allora bisogna chiedersi perché un incontro transdisciplinare? In che senso? Io avevo trovato questa definizione qui di transdisciplinarità che forse è per voi, per gli studenti di questa scuola, e conosciuto insomma questo nome Fairclaw che dice che la transdisciplinarità mostra come il dialogo fra due discipline o due diversi ambiti disciplinari possa condurre allo sviluppo di entrambi. Questo può avvenire grazie a un processo che permette all'uno di appropriarsi della logica dell'altro facendola divenire una risorsa per il proprio sviluppo. Quindi diciamo così transdisciplinarità è una forma particolare di interdisciplinarità ma che porta avanti ognuno nel proprio ambito. lo sviluppo. Non uno si impossessa dell'altro, lo cannibalizza, no, è un'importanza di questo essere uno a fianco all'altro. E io direi che se vogliamo vedere nel caso della D, ma forse questo a chi ha lavorato con il professor Taylor e la professoressa Perego magari è già abbastanza chiaro, si sviluppa proprio nell'ambito dell'accessibilità. Servizi di ad filmica per non vedenti si sviluppano negli USA in Europa negli anni Ottanta, negli USA nel Regno Unito questo sviluppo è favorito dalla legislazione. Per quanto riguarda la legislazione c'è da dire, e qui trovate alcuni elementi normativi insomma, dove vediamo che in America c'è stato questo Americans with Disabilities Act del 90, che poi è stato successivamente modificato dal Rehabilitation Act del 98, che sancisce che tutti i prodotti informatici devono essere accessibili, e nel 2001 viene ulteriormente modificato e si definisce che tutti i film, tutti i video, e tutti i prodotti multimediali e informatici devono includere l'audiodescrizione. Quindi questo è un discorso di legge, questo è il congresso americano. In Inghilterra invece, anzi nel Regno Unito scusatemi, col DDA, il Disability Discrimination Act del 95, poi incorporato nell'Equality Act del 2010, sancisce l'obbligo di audiodescrizione per i vari media. Diciamo che in sostegno dell'Europa abbiamo questa direttiva europea del 2007 sui servizi di media audiovisivi, che segna in qualche modo un passo importante verso una regolamentazione comune dell'accessibilità dei servizi di audiodescrizione. Ma certo, ancora grandi disparità esistono fra i vari stati europei. Bisogna dire che in questo l'Italia non è tanto ben posizionata, mentre chiaramente l'Inghilterra, il Regno Unito lo è un po' meglio, anzi lo è sicuramente meglio, e quindi questa direttiva è stata recepita in maniera difforme. Ecco, sicuramente si cerca di proseguire comunque in questo senso. Ma ritorniamo al discorso di transdisciplinarità. La cosa un po' è stata sottolineata prima, negli interventi che mi hanno preceduto, e come l'audiodescrizione si presta a tanti ambiti, a essere declinata in più modi. Per esempio, e questo basta guardare la mole di studi fatti in questo campo, si vede che l'audiodescrizione si coniuga con la linguistica, ma si coniuga con l'apprendimento delle lingue, si coniuga con gli studi culturali. Quindi, anche se vogliamo superando degli steccati un po' molto rigidi fra quello che è lingua, letteratura, traduzione specializzata di un certo tipo, di contro A, traduzione più letteraria, sicuramente in questa direzione, l'audiodescrizione è andata avanti. Per finire, non a caso con gli studi cognitivi, gli studi cognitivi che spaziano quindi, come sottogruppo dalla psicologia, alle neuroscienze, e via di seguito. Sicuramente, un altro incontro, diciamo così, interdisciplinare di successo dell'AD è stato quindi quello con la museologia e la cultura visuale. Ovviamente, per quanto riguarda il museo, ci sono molti studi e progetti di AD e musei comunque tutti molto recenti. C'è l'AdLab Pro, che è quello che... Insomma, io ho messo una data circa, diciamo così, a partire dal 2003 fino ad adesso, nella speranza di una prosecuzione in questo senso. Fra le linee guida che si possono trovare per l'opera d'arte, che sia essa in due dimensioni o in tre dimensioni, c'è Art Beyond Site, che sono queste linee guida di questo istituto americano che si è molto occupato di arte, di musei soprattutto, musei per i non vedenti. e poi the talking image guide, museums, galleries and heritage sites, che erano quelli esattamente nominati prima da la professoressa Perego e il professor Taylor della Royal National Institute for the Blind People and Vocal Eyes. E infine, quello che era un po' il risultato, almeno tangenzialmente, forse appunto con AdLab Pro sarà ulteriormente elaborato, in pictures painted in words, dove i riferimenti al museo erano un po' pochi, ma assolutamente essenziali, che centravano esattamente il problema dell'audiodescrizione dell'artefatto artistico. Quindi la D si può considerare in uno sviluppo del passaggio dal museo moderno al museo post-moderno. Questo è un concetto molto importante, perché mostra come con il nascere di quella che viene chiamata la nuova museologia, che in realtà è derivata da un termine di Peter Vargo e del suo libro New Museology del 1989, propone, c'è un momento storico, gli anni, diciamo così, fine 70, inizio 80, dove c'è una totale revisione di che cosa è museo. Veramente c'è una revisione in molti sensi, ma sicuramente di qual è la funzione del museo, qual è la capacità di attrarre i visitatori e l'implementazione dell'accessibilità. Molti studiosi, e devo dire, è una bibliografia ricca e piena, chi poi ne avesse bisogno può rivolgersi a me o alla professoressa Perego, e tutta questa parte qui, molto legata al museo, tende verso questa nuova politica museale, tutto verso l'accessibilità. Non a caso, per esempio, vi faccio un esempio, uno degli interventi nodali di questa, in questo campo qui, è per esempio The Disabling Society, dove in realtà c'è l'idea, no, che, dove viene introdotta l'idea di altre esigenze rispetto a quelle che erano le esigenze del passato. E quali sono, e in che cosa si differenzia il nuovo museo rispetto al museo del passato? Innanzitutto, non deve più far prevalere l'importanza, il museo non deve più far prevalere l'importanza di classificazioni e tessonomie rispetto all'esperienza del visitatore. Ovvero, il museo, voi pensate a quelle vecchie mostre tediose dove uno ha il ragno, il ragno cresciuto di due mesi, ecco, questo tipo di classificazione ordinata e tassonimica non deve più esistere. Il museo non deve essere più lo strumento educativo, essere l'ambiguo strumento educativo e disciplinare delle elite culturali e qui ovviamente vediamo che l'influsso di filosofi come Foucault e come l'idea del controllo, come il museo, come un'istituzione che ci insegna e ci controlla allo stesso tempo, era un discorso che si stava sviluppando per tutte le istituzioni, pensate ai risvolti che per esempio per fare un caso vicino a noi ha avuto tutto questo su Basaglia e i manicomi a Trieste per esempio, quindi l'idea che questa istituzione deve in qualche modo cambiare e il museo inoltre deve divenire luogo di conoscenza esperienziale secondo il modello costruttivista e il museo quindi dove si impara sul campo e il museo non è più immagine di una nazione unitaria ma deve rappresentare le numerose poliedriche comunità di cui la nazione è composta inclusi i disabili quindi il museo la parola d'ordine è inclusività infatti uno dei più importanti testi scritti da questo Sandal che è uno che si è occupato molto diventerà proprio The Inclusive Museum il museo deve anche promuovere l'avvicinamento fra arte popolare e arte alta quindi diciamo così che la D per i musei deve fare i conti con quello adesso vediamo in che senso la D si introduce nei musei con quello che Georgia Warnke ha chiamato oculocentrismo questa parola mi è piaciuta tantissimo l'ho trovata in inglese ma c'è l'importanza data la vista quale strumento di conoscenza tal'idea è stato patrimonio comune della cultura occidentale e in particolare del cattolicesimo la possibilità di apprendimento del non vedente era stata oggetto di riflessione filosofica durante l'illuminismo soprattutto nel Regno Unito e in Francia e in Irlanda questo è vabbè se qualcuno vuole ne parliamo dopo ma c'era la famosa domanda posta da Locke Locke chiedeva che cosa può succedere a un bambino che una volta che è nato non vedente e una volta se si ritrovasse a riacquistare la vista ecco per Locke il positivismo e per tutti gli illuministi dell'epoca la risposta era ah sì assolutamente potrebbe apprendere in realtà il discorso era molto molto più sottile perché era un discorso di diciamo così mettersi contro la religione cattolica ok cioè i positivisti gli enciclopedisti in Francia volevano in qualche modo opporsi a questa visione del cattolicesimo come visione ok quindi c'era sia un discorso personale sia un discorso diciamo così ideologico e infatti dice vabbè la D per il museo rimane comunque una vera e propria sfida per l'accessibilità deve usare un linguaggio descrittivo ma anche espressivo deve interrogarsi su come l'ambiguità visiva dell'opera d'arte possa essere espressa attraverso altri sensi per esempio superare questa forma di ambiguità qui però è difficile con l'audiodescrizione che cos'è questo? che cos'è? non leggete? sì può essere un'anatra sì è un'anatra ma ma è anche un coniglio il muso del coniglio mentre l'anatra è di qui il coniglio è di lì questo è il segno è l'ambiguità visuale per eccellenza che secondo alcuni non non potrebbe essere resa ma insomma vedremo la dottoressa se che ci illuminerà su questo ok finisco solo questo e direi che a differenza di altre ad l'ad per il museo non ha un testo originale ma un testo non verbale che richiede contestualizzazione interpretazione selezione la d deve essere una propria esperienza multisensoriale così soggettiva e ambigua al punto di creare un'opera ad alte alternativa fruibile attraverso gli altri sensi questa è questa qui viene chiamata da una studiosa che si occupa di audiodescrizione sound painting cioè questa è l'estrema conseguenza diciamo così o l'estremo punto a cui potrebbe arrivare l'audiodescrizione a cui io personalmente ho insomma qualche problema a pensarla in questi termini qua un'audiodescrizione però c'è anche chi dice bene può essere esperita completamente attraverso altri sensi eliminando completamente la parte verbale ok io direi che potremmo concludere qui dicendo che l'accessibilità museale è quindi qualcosa di più ampio no in cui anche la di si inserisce ovvero fisica culturale emotiva finanziaria e inoltre deve garantire accesso al processo decisionale all'accesso intellettuale e l'accesso sensoriale grazie mille applausi